Qui abbiamo un tentativo di costruire quello che i giapponesi chiamavano l'area di coprosperità della più grande Asia, che voleva dire ci pigliamo quello che ci pare, soggioghiamo i popoli che finora sono stati soggiogati dagli europei, adesso tocca a noi, ci prendiamo la gomma, l'alluminio, il petrolio e tutto quello che c'è nell'impero olandese, ci prendiamo l'Indocina perché i francesi non ce la fanno a difendere l'Indocina, ci prendiamo un quarto della Cina che è quello che ci interessa, ci prendiamo la Manchuria e la Corea e poi che vengano gli Stati Uniti se s'azzarrano a fare la guerra contro l'Inavra. Rimland, Giappone, più un bel pezzo di partito. Naturalmente tutto ciò infastidisce moltissimo la Russia in quel momento, Urs, che però avendo i suoi problemi con la Germania, sta ferma fino al maggio, fino all'agosto del 1945. D'altra parte abbiamo la Germania che fa lo stesso. A differenza di quello che si pensa, ha capito benissimo la lezione della Prima Guerra Mondiale e Hitler sa bene che è finita l'epoca degli Stati, è cominciata l'era delle superpotenze e che per essere superpotenza devi avere l'enorme estensione continentale e il dominio del mare. Il dominio del mare del Terzo Reich è ridicolo a confronto di quello del secondo, cioè la flotta è poca cosa, tranne la flotta sottomarina. In compenso la capacità di conquista territoriale è molto superiore tutta l'Europa praticamente e una fetta che a noi pare enorme, ma che vista sulla carta geografica è in fondo piccola, della Russia. L'arci nemico chi è? Sono gli Stati Uniti, non l'Inghilterra. Hitler dà per scontato una sorta di declino inglese, crede del resto che l'Inghilterra sia abbastanza utile col mantenere l'impero. Quello che non vuole capire è che l'Inghilterra non può accettare, non l'ha mai accettato, non può accettare precisamente questo, cioè che si formi una superpotenza continentale in Europa con sbocco sul mercato. Cioè qui un coerente interprete delle ragioni dell'impero inglese, lo sa fin da subito. Questo va ammazzato perché è un mostro, ma va ammazzato perché minaccia proprio il core business del nostro paese. Noi non possiamo avere a 30 chilometri di distanza una superpotenza. Se questo è, noi diventiamo niente. E noi abbiamo contro costui, abbiamo il vantaggio che non abbiamo cuore, non abbiamo centro. In quel discorso fenomenale lo dice, venite se ci riuscite, vi accoglieremo come si deve, certamente, ma se anche ci invaderete e non ci riuscirete, noi andremo in Canada, come d'Israele aveva detto, e noi portiamo la regina Vittoria in India. Cioè ecco, gli inglesi hanno questa chance che possono arretrare infinitamente perché non hanno un cuore politico. Possono andarsene a spasso per il mondo, purché detengano i punti chiave del potere marittimo, che sono ovviamente la Manik, ovviamente Gibraltar, ovviamente Suez, ovviamente Aden, ovviamente Silon, ovviamente il capo di Buona Speranza, ovviamente Silon, ovviamente Singapore. Infatti il panico di Churchill è enorme quando gli italiani e i tedeschi in realtà si riprendono Tobruk, perché Tobruk vuol dire una minaccia diretta contro l'Alessandria d'Egitto, cioè contro il canale, e il panico è quando i giapponesi prendono Singapore. Prendere Singapore vuol dire interrompere il passaggio fra i due oceani. Il Giappone e la Germania fanno la seconda guerra mondiale per diventare ciò che la geopolitica dice che si deve essere se si vuole praticare Weltpolitik, cioè potenze di terra e di mare al tempo stesso. Gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti certe cose non le sanno. La dottrina Monroe era la dottrina della negazione della geopolitica, era la dottrina dell'autosufficienza, nella quale si sosteneva non mi interessa che cosa fate voi altri in Europa. Quello che vi dico solo, quello che non dovete fare, non dovete venire a esportare i vostri conflitti nel continente americano, né nel nord né nel sud. Il sud era il punto più probabile, cioè la Santa Alleanza che armasse una flotta per riportare i disiecta membri dell'impero coloniale spagnolo alla lealtà verso Madrid, cosa che non avvenne. Ci mettono moltissimo a capire, dato che hanno un continente da conquistare, hanno una frontiera da mandare avanti, hanno una base industriale da impiantare, ci mettono moltissimo a capire quello che invece capiscono adesso fin troppo, ma che non dicono mai. Cioè, primo, gli Stati Uniti sono un'isola, grossa, con un unico potere politico, il loro. Questa isola si affaccia su due mari, su due oceani. Dunque, realizza in sé, come abbiamo già detto, la sintesi di Hurtland e di Rimland. L'essenza della sua potenza è che essa, isola, controlli entrambe le sponde di entrambi gli oceani sui quali si affaccia. Detto in un altro modo, l'essenza della sicurezza di questa isola è che nessuna superpotenza si affacci sull'oceano Atlantico o sull'oceano Pacifico. Ci mettono moltissimo e capiscono prima quella del Pacifico. Nel senso che già dal tempo della Prima Guerra Mondiale, quando il Giappone era dalla loro parte, evidentemente gli Stati Uniti fanno guerra contro la Germania. Bene. Però è anche vero che gli Stati Uniti poi si richiudono in se stessi, isolazionismo, e ignorano sostanzialmente la geopolitica. Si risvegliano, e qui gioca anche francamente un elemento di razzismo, si risvegliano prima nei confronti del Giappone, che pare a loro molto più dinamico della Germania. La Germania pare a loro un caso un po' buffo, un po' curioso, un po' crudere. In ogni caso ricordiamoci che gli Stati Uniti erano subalterni culturalmente alla Germania fino alla Prima Guerra Mondiale. Cioè le élite americane facevano il viaggio di istruzione e lo facevano in Germania. E infatti Roosevelt detesta i tedeschi perché quando da giovane fece il viaggio di istruzione in Germania lo trattarono dall'alto in basso. Invece il dinamismo giapponese è subito chiaro alle élite politiche americane come una minaccia e la risposta americana a quella minaccia è una risposta devastante, cioè blocco totale dei finanziamenti, delle esplorazioni, minaccia di strangolamento. Ed è una minaccia facilmente, dopotutto comunicabile all'opinione pubblica. Quelli sono gialli. L'elemento razziale ha giocato in modo feroce nel conflitto del Pacifico. Gli Stati Uniti combattono la Seconda Guerra Mondiale perché Churchill spiega a Roosevelt, un Churchill molto preoccupato, spiega a Roosevelt ma voi lo capite che se i tedeschi ci sconfiggono, si sono mangiati da Francia, ci mettono un secondo a mangiarsi la Spagna e il Portogallo e poi scendono giù e vanno in Marocco, a questo punto voi vi trovate di fronte a un tiro di schioppo dall'altra parte dell'Atlantico, una superpotenza aggressiva, vi rendete conto? Per ragioni di sicurezza degli Stati Uniti, altro che di democrazia. Lo stesso, ma è più chiaro per quanto riguarda il Giappone. La Seconda Guerra Mondiale è la storia di una superpotenza terrestre marittima, gli Stati Uniti, che impedisce contemporaneamente il tentativo di formarsi di due analoghe superpotenze in due opposti oceani. Questo per dare l'idea di che cos'è il potere degli Stati, il potere politico-economico in Italia degli Stati Uniti è questo. O, in tutto ciò, come vedete, la Russia è un soggetto passivo. Come passivo? Questi hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale. Sì, ma non hanno avuto lo sbocco al mare neanche a piangere. Per cui possono tenersi tutte le divisioni che vogliono, basta che non si prendano Trieste. Infatti, Churchill, che pure verso la Russia era molto di manica larga perché gli era servita per ammazzare i tedeschi, Churchill dice Noi non gli diamo Trieste. Questi si possono tenere Vladivostok, vedrai che cosa se ne fanno di Vladivostok. Ci possono mettere finché vogliono la loro flotta da guerra e se la tengono lì. Gli Stati Uniti, dopo un tentativo patetico di ritirarsi di nuovo da tutti, che è durato sei mesi, si sentono dire da un importante analista come Kennan, col famoso lungo telegramma, che la Russia è un pericolo. Allora qui, l'Urs è un pericolo. Qui c'è da chiarire questo punto. È un pericolo perché è comunista? Anche. Ma perché? Perché essendo comunista, il suo essere comunista è l'unica arma che essa ha per poter porre in essere una politica universale. Per cui la politica degli Stati Uniti diventa quella del containment contenere che cosa? Contenere una presunta spinta imperialistico militare della Russia. Dico presunta perché forse, sì, se gli avessimo detto prego si accomodi, si sarebbe accomodato, ma per come era ridotto non c'era molto spazio. in realtà dalla Seconda Guerra Mondiale l'Urs ha ottenuto sostanzialmente il ritorno alle frontiere precedenti al trattato di Brest-Ritosk. e una zona cuscinetto l'Europa orientale. Una zona cuscinetto per garantirsi che non si ripetesse per la terza volta l'attacco tedesco. questo ha ottenuto molto per lei ma insomma tenete conto anche del fatto che l'Urs grazie a Hitler e grazie a Stalin esce dalla Seconda Guerra Mondiale con un deficit demografico di una quarantina di milioni di persone che la trasforma in quella piccola potenza che è ancora oggi. la Russia è disabitata. Ai tempi della Seconda Guerra Mondiale aveva lo stesso numero di abitanti degli Stati Uniti e adesso gli Stati Uniti ne hanno il doppio della Russia. Questo al di là del PIL ecco il PIL della Russia è un quarto del PIL italiano che è un decimo del PIL americano. Tanto per dire certo è piena di bomba atomica certo con le quali si fa poco cioè con le quali ci si difende ma non si attracca. E che cosa fanno gli americani? Finalmente in una logica geopolitica si dice fanno l'universalismo beh con calma fanno i loro interessi geopolitici che sono per l'appunto impedire il formarsi di superpotenze che si affaccino sugli oceani e anzi semplicemente andandoci loro dall'altra parte ed ecco costruito la NATO la NATO che cos'è? è un insieme è un complicato sistema di alleanze di trattati che coinvolge tutti quelli che è giusto coinvolgere cioè la Norvegia l'Islande l'Inghilterra l'Inghilterra la Francia Spagna Portogallo Marocco ed ecco che avete fatto la sponda sull'antico continente dell'oceano atlantico chi si affaccia sull'oceano atlantico stati piccoli altro che superpotenze tutti inseriti in una catena il cui capo è nelle mani degli stati giriamo l'angolo troviamo beh poi gli americani fanno anche degli errori però troviamo ai tempi la Turchia troviamo la Germania l'Italia e la Turchia che chiudono ben a modo alla Russia l'accesso all'abriatico e al Mar Nero giriamo l'angolo troviamo l'Egitto che prima dei disastri diplomatici era una potenza c'era c'era Re Farouk ecco un fedele alleato degli inglesi poi c'era un Medio Oriente tutto in mano anglofona cioè in mano delle compagnie petrolifere come era stato previsto fin dai tempi della prima guerra mondiale da Churchill come era stato fatto per cui c'è l'Iraq la Persia che sono in mano gli inglesi e agli americani e alle compagnie petrolifere saltiamo l'India che non si sa che cos'è ma insomma non è portatrice di una minaccia sostanzialmente ed è abbastanza anticinese di per sé poi e poi comincia la Indocina francese e quando i francesi la perdono ecco che ci vanno gli americani poi comincia l'impero coloniale olandese disfatto e l'impero coloniale inglese disfatto e trasformato in stati sovrani che fanno tutti parte di alleanze che si chiamano Seato e poi Anzus e poi trovate per l'appunto la Nuova Zelanda e l'Australia che chiudono giriamo l'angolo troviamo Malesia con Singapore giriamo l'angolo troviamo Filippine Formosa Giappone Corea del Sud cose che gli americani si sono conquistati con il loro sangue che non intendono minimamente abbandonare tutte inserite in alleanze militari di ferro più tutte le isole del Pacifico che sono delle meravigliose basi militari più la base di Diego García nel mezzo dell'oceano indiano presa in affitto per 5.000 anni dagli inglesi da Diego García sono partiti i bombardieri Sturz per fare la guerra in Iraq è roba molto utile questa che cosa abbiamo descritto abbiamo descritto tutta Rimland in mano agli americani che cinge tutto Earthland e lo Stroz aggiungo il Sudafrica importantissimo il Sudafrica può essere infamato e maledetto perché pratica l'apartheid finché esiste l'Unione Sovietica esisterà un Sudafrica bianco non si lascia la rotta del capo in mano dei presunti amici dell'URSS che non lo erano per niente ecco visto così il mondo non è più lo scontro di due universalismi visto così è una bella storia di geopolitica ma tutto ciò salta quando gli americani vincono la guerra fredda l'URSS viene spappolata e il capitalismo dilaga in tutto il pianeta tutto ciò diventa inutile obsoleto smantelliamo le basi militari la geopolitica non esiste più non esiste più la differenza non esiste più lo spazio non esistono più le logiche della potenza esiste soltanto una logica l'utile che è una logica infinitamente buona in sé c'è utilità per tutti lasciate che il capitalismo sia ed esso produrrà bene per tutti porterà fuori dalla preistoria i paesi poveri arretrati è successo ma non perché il mondo fosse uno la globalizzazione è il mondo uno e al tempo stesso diverso mundus altere tiden e uno è diverso il capitalismo non è uguale in tutto il mondo il capitalismo ha una dimensione geoeconomica ovvia ci sono le catene del valore che distribuiscono i compiti economici in questo mondo ci sono le terre in cui ci sono i capitali e c'è il cervello e si fornano i brevetti perché lì ci sono le grandi università i grandi centri di ricerca e ci sono le terre dove ci sono coloro che sono senza terra o che al massimo hanno la terra che vanno a scavare per tirare fuori il colta nella colombite come in Congo per fare i chip ci sono i paesi che producono soltanto materie prime quelli che producono soltanto mano d'opera ci sono quelli che decidono invece strategicamente chi fa che cosa se voi comperate una Mercedes comperate qualche cosa di impressionante comperate la globalizzazione perché se il modello S è quello che costa 120.000 euro quello ve lo fanno a Stoccarda effettivamente con operai turchi ma insomma a Stoccarda sotto ingegneri tedeschi ma se comperate il modello E beh il modello E lo fanno in Sudafrica e il modello C lo fanno in Turchia e il trasporto marittimo ma non costa niente e l'assemblaggio beh quello in certi casi lo possiamo fare in Germania in altri lo facciamo invece direttamente nei paesi dove c'è la produzione in ogni caso quei paesi non producono tutto che so io i carburatori elettronici li possiamo fare a Modena le sospensioni le possono fare in Cecoslovacchi voi dite ma che che mondo meraviglioso dove tutti fanno tutto no niente perché questo è un mondo in cui comandano comanda il consiglio di amministrazione di Stoccarta è lì che si decide è lì che si dice chi fa che cosa e certamente esiste un capitalismo un capitalismo esteso mondiale a reti ma esiste anche in quella catena in quella rete un capo e una coda il capitalismo produce in un certo luogo perché ha portato via qualche cosa da un altro luogo il capitalismo è valorizzazione del capitale non valorizzazione dei territori e quando va in un territorio ci va per valorizzare il capitale secondo le caratteristiche del territorio questo vuol dire che il capitalismo è uno e al tempo stesso convive tranquillamente con tutte le differenze di questo mondo niente con tutte le caratteristiche